Quando ho ascoltato questo brano pensavo che fosse una canzone d'amore, parlo di Azkaban di Leuna e invece poi si capisce subito che si parla del periodo che stiamo vivendo Infatti, infatti, perché appena dice non andrà tutto bene, capisci subito in un nanosecondo che non è andato tutto bene Testo molto scuro per un singolo di debutto, soprattutto in questo genere in cui ci si aspetta un po' di leggerezza Sì, potrebbe essere una scelta un po' azzardata da un certo punto di vista effettivamente perché magari vorresti sentire qualcosa di più sdolcinato a livello di testo, però di contro È anche una scelta di stomaco che soprattutto è la sincerità e un essere se stessi, parlare dei propri sentimenti che si stanno vivendo e noi stiamo vivendo questo tempo, quindi è fondamentale Assolutamente, secondo te potrebbe essere la risposta italiana alla rappresentante di lista? No, non penso, perché come duo lo vedo un po' più, come dire, arrotondato, smussato negli angoli la rappresentante di lista mi sembra più eclettica, però è ancora presto per dirlo Certo Quindi intanto ci ascoltiamo, Azkaban di Leuna Grazie 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 Grazie